salve ragazzi anzi allora ragazzi come dico sempre vi voglio portare un'altra recensione sto andando un attimo avanti con le recensioni non mi sono preso il pannetto voglio pulire l'orologio vi ringrazio tanto ragazzi che mi seguite veramente a tutti non lo dico mai di iscrivervi al canale lo sapete a volte lo metto scritto qui in basso però se vi fa piacere seguitemi iscrivetevi al canale so che questa recensione non avrà un grande successo perché non è un marcio ricercato però io sono un appassionato di orologi vero o più di 100 orologi ragazzi di tutte le marche di tutti i tipi di movimenti al quarzo a carica manuale automatico kinetic veramente chi più ne ha più ne metta perché non mi frega proprio non sono un fissato della specifica anche se a volte la specifica può fare la differenza ci tengo a precisarlo però veramente non sono un fissato di marchi io vado in una fiera se trova un orologio di 100 euro che perché mi piace lo compro non mi frega se non è automatico se al quarzo oppure se non ha un grande prezzo di rivendita se non a questo se non a quello questo non esiste nella mia disciplina di appassionato di orologi frequento le fiere quindi trovo veramente molti appassionati che a volte sono degli orologi che non hanno senso neanche a volta di esistere anche se tutti gli orologi hanno senso di esistere perché comunque scandiscono il tempo che la cosa più importante di una forte rimentichiamo questo vi voglio far vedere un marcio che è questo dufo è un orologio che ho comprato alla fiera di capua dal cecchino vi posso assicurare ragazzi e questo è un orologio veramente fatto di qualità tra l'altro secondo me a mio avviso molto bello questo orologio qua è molto molto bello e a vi posso assicurare che ne sono rimasto folgorato ci aveva la scatola la il nostro caro amico cecchino me l'ha fatta vedere una scatola bella elaborata è un orologio che mi è piaciuto molto e l'ho voluto acquistare non l'ho pagato tanto pare che l'ho detto nel video dove l'ho preso se non ero 120 euro 130 euro non lo so però abbiamo vetro zaffiro acciaio aereo spaziale è da 28 24 che cosa vi comprate ovviamente quando i marchi non sono conosciuti a volte i prezzi vanno al ribasso però poi ci possiamo trovare noi appassionati di portare tutti i giorni comunque un orologio costruito veramente bene vi voglio dire giusto due parole me ne sono segnate dufo nasce nel 1994 dall'idea di walter pizzo che era praticamente un pilota di aviazione che aveva questa passione di orologi danno il nome dufo che è dedicato ad eri armandufo che erano dei costruttori di aerei da 1900 addirittura 1904 1905 se ricordo bene la storia e hanno cominciato a fare orologi in collaborazione soprattutto in questo caso è uno swiss air e in collaborazione swiss air hanno cominciato a fare orologi in collaborazione con le case di diciamo di produzione di anche con boing l'hanno fatti hanno fatto che il clm lufthansa swiss air poi ne hanno fatto uno per il museo li li ting li hanno li lenti al scusatemi se non l'ho pronunciato bene quindi un orologio che è diventato poi dall'altro molto raro e che praticamente poi nel 2003 facevano tutte queste serie limitate che probabilmente vendevano sugli aerei nel 2023 nel 2003 la produzione è cessata e nel 2023 invece è ritornato in auge io non lo sapevo dispiace ma la finestra aperta se sentite le auto nel 2023 è ritornato sta facendo tra l'altro una campagna kickstarter se non erro per un cronografo fatto molto bene ragazzi che ci tengono ai materiali alla produzione adesso giro la camera ve lo faccio vedere quindi nel 2023 fuori torna sta producendo di nuovo orologi interessanti questo qui a me è piaciuto molto per design è tutto ma vi voglio girare la camera che voglio far vedere anche la scatola che non è assolutamente male e andiamo a vedere l'orologio allora ragazzi vi faccio un video a mano libera vi voglio far vedere una cosa arriva cioè veniva dato con questa scatola dufo molto bella dove dentro è alloggiata quest'altra scatola qui l'orologio steso vedete anche dentro marchiato e guardate qua che bellezza questa targhetta con la scritta swiss air spirit of swiss air pilot watch vi dice la referenza il movimento che meccanico guardate qua manifattura svizzera qua parliamo di orologi svizzere guardate che scatola e tra l'altro c'è il certificato di garanzia che mi è piaciuto anche questo qua molto guardate qua spirit of swiss air vi dice come deve essere diciamo usato l'orologio e c'è anche questo qui è un'edizione limitata a 700 pezzi per la swiss air e abbiamo anche guardate qua tutto il certificato è stato venduto nel 2001 quindi comunque venivano fatte veramente cose per bene per dufo che penso che non so ne abbiamo venduti tanti poco e pochi sulle compagniere però guardate qua c'è vi dice quello che avete comprato che è stato costruito per bene eccetera eccetera guardate qua il movimento come va che questo qui è un eta 28 24 veramente fatto bene questo qui è il nostro orologio orologio che pure ho indossato pareccio ce l'ho da qualche mese guardate qua ovviamente design proprio pilot tutti i numeri grandi guardate qua che bellezza dufo swiss erland automatic spirit of swiss air ed è uno swiss made sfere molto belle anche queste qua guardate la sfera dei secondi come bella con la punta rossa abbiamo qui corona a vite corona a vite con la d di dufo tra l'altro le dimensioni sono proprio ottime parliamo di 38 mm 41 mm con la corona 44 mm di lag to lag solo 11 mm di spessore 11 mm ragazzi con un vetro zaffero e un cinturino da 20 mm con la sua fibbia dufo cinturino da 20 mm che finisce 18 c'è orologio perfetto e portatile veramente in tutti i sensi eta 28 24 datario qui ad ore 3 guardate qua dice che è acciaio aero spaziale questo che è il fondello dufo dufo spirit of swiss air e ci dice che è acciaio purtroppo è un po sbiadito aerospace stylus steel numero 85 di 700 100 metri di profondità ha comunque la corona e il fondello a vite mi piace molto la forma della cassa qui lucida sul lato guardate qua e anzi è un poco poco ricurve e abbiamo la iera qua diciamo la parte alta satinata ve lo voglio far vedere al polso voglio girare un attimo la camera così lo guardiamo insieme eccoci qua ragazzi mi levo l'unimatic che ho recensito prima di questo un altro orologio che mi è piaciuto molto che ho fatto vedere nell'altra recensione andatela a cercare un orologio cinturino bello e faccio vedere indossato come sta 38 mm 38 mm guardate che portatilità un bello quadrante nero orologio che indossato veramente tanto tempo ma lo continuano ad indossare perché non è che 80 intenzioni di venderlo perché pagato quello che l'ho pagato ok vi portate una meta 28 24 vetro zaffir acciaio aerospaziale comunque un acciaio di qualità e tutto quello che volete una corona vite cioè devo portare sul polso fate sempre la vostra bella figura è molto bello lucido si vede che un orologio fatto di qualità quindi resterà sul mio polso ragazzi vi ringrazio sempre che mi seguite veramente vi ringrazio sempre che mi seguite ci vediamo alla prossima recensione ciao